In occasione delle NAIA, il North American International Auto Show, Kia ha presentato il concept GT4 Stinger, una coppa sportiva 2 più 2, e noi la vediamo in questo servizio. Kia presenta la concept più aggressiva svelando la GT4 Stinger al North American International Auto Show di Detroit. La concept supera i confini delle comuni prestazioni con un'auto sportiva 2 più 2 a trazione posteriore che mette in sintonia uomo e macchina sulla strada o in piedi. Sotto il cofano imponente della GT4 Stinger si trova l'inedito sviluppo del 2 litri 4 cilindri turbo a iniezione diretta TGDI che i tecnici Kia hanno portato alla potenza massima di 315 cavalli. Questa potenza è scaricata sull'asfalto attraverso un cambio manuale a 6 marce collegato alle ruote posteriori che montano pneumatici 275-35R20 Piretti Pizzero Performance. Sotto i paraurti anteriori trovano posto i Pizzero Performance 235-35R20 che assicurano l'aderenza in puro. I grandi cerchi in alluminio da 20 pollici hanno inserti in carbonio per aumentare la rigidità e ridurre il peso. All'interno delle massicce ruote si trovano i freni Brembo Gran Turismo con dischi in materiali compositi da 15 pollici e pinze a quattro pistoncini dotati di notevole forza frenante. Sotto la carrozzeria scultorea della GT4 Stinger con la collaborazione in Mission Yellow si trovano le sospensioni a quadrilagero. Gli appassionati del codice di design di Kia, definito dal presidente di Kia Motors Corporation e dal chief design officer Peter Schreyer, riconosceranno subito gli elementi fondamentali di stile della GT4 Stinger. L'ultima versione della caratteristica griglia di Kia si trova molto vicino all'asfalto, in modo da consentire un maggiore raffreddamento del motore. La griglia è circondata da un profilo bianco e da un inserto multistratto nero satinato, un tema che si ripete in tutta l'auto. Su entrambi i lati della griglia sono posti i fari a LED, mentre il sistema di raffreddamento dei freni anteriori, inserito nel paraurti, fornisce un aspetto pulito e armonioso. Uno splitter in fibra di carbonio montato sotto i paraurti aggiunge downforce all'auto ad alte velocità, per mantenere gli pneumatici anteriori della GT4 Stinger ben piantati sull'asfalto. Anche se attualmente la produzione della Concept non è in programma, nella storia di Kia, spesso sono stati messi in produzione i veicoli che somigliano fortemente alle concert che li hanno preceduti. La GT4 Stinger permette di dare uno sguardo provocatorio sul futuro. Così con questa stupenda Kia noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità e ritorniamo tra pochissimo con Motor News e con altre novità del mondo dei motori.